Sesto e Firenze Peretola Sulla A12 per lavori Un chilometro di coda Tra Massa e Carrara In direzione Genova E un chilometro di coda Sempre per lavori Tra Pisa Centro E il Bivio Per la 11 Sulla Fipili In direzione Firenze Rallentamenti Per viabilità esterna Che non riceve Tra Scandicci E Firenze e Scandicci Chiusa l'entrata Di Livorno Per lavori Muoversi Toscana È un servizio realizzato In collaborazione Con Regione Toscana Città metropolitana di Firenze E Comune di Firenze Buon viaggio Buon viaggio